Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Anche oggi parliamo di Samuel Stern, il numero è il numero 5 di questa nuova serie a fumetti che è sbocciata a novembre dalla Bugs Comics e che parla di un libraio di Edimburgo che ha questa passione per la demonologia nonché un contatto quasi sensitivo, diretto, con i demoni che albergano all'interno delle persone e che all'interno di questa mitologia fumettistica nascono dall'interno delle persone. Prima di cominciare sul serio come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un bel mi piace a questo video e a tutti gli altri andate a controllare tutte le mie playlist se c'è qualcosa che vi interessa, guardatevi tutti i video, condividete il video con tutte le persone che conoscete e commentate con quello che vi è parso di questo video. Nella descrizione trovate sempre dei miei link Amazon che possono essere inerenti a quello di cui parlo nel video questi link vi permettono, se fate gli acquisti attraverso questi link, avete la possibilità di sovvenzionare il canale oltre a questi link in questo periodo di quarantena, tutti sappiamo per quale motivo, ho messo anche un paio di link per fare una donazione all'ospedale della mia città che è la città di Bergamo. Se siete dei nerd sono sicuro che vi farà piacere il link alla campagna di crowdfunding che a fronte di una donazione vi darà delle tavole digitali create apposta da illustratori, artisti, fumettisti italiani. Samuel Stern numero 5, La fine della coscienza. Titolo che racchiude benissimo tutti gli argomenti trattati all'interno di questo albo, quantomeno io ho colto tre macro argomenti di cui adesso vorrei discutere con voi più un argomento bonus che non è nel fumetto ma è nell'editoriale del creatore di Samuel Stern, Gianmarco Fumasoli che dice, parto da quello, così ce lo leviamo dalle scatole, che dice quando abbiamo creato Samuel Stern ci siamo chiesti, gli facciamo fare in ogni fumetto, in ogni numero una possessione demoniaca restando all'interno dell'ambiente demonologia oppure possiamo anche spaziare in modo più ampio nel vasto panorama dell'horror, scrivono. Da quello che si evince anche all'interno di questo numero pare che vogliano restare nell'ambito della demonologia perché, come poi questo numero ha dimostrato molto bene anche all'interno di questo spazio, un po' di nicchia, si può, scusate la cacofonia, si può spaziare molto cosa che io condivido, nel senso che se si allargassero a tutto ciò che è horror al di fuori della demonologia potrebbero davvero diventare troppo simili a Dylan Dogg, all'indagatore dell'incubo che, come ho detto nell'altro video, sfrutta l'horror, la tematica horror per parlare delle angosce delle ombre dell'animo umano, in modo molto metaforico, però diciamo l'horror è un pretesto per parlare d'altro se qua, dato che anche qua comunque c'è il pretesto per parlare d'altro però mi piace che sia circoscritto all'ambito demonologia anche perché in questo modo il fumetto assume una sua identità che al momento altri fumetti italiani da edicola non hanno e spero che continuino su questa strada i tre macro temi che io ho colto sono i seguenti all'inizio ci si focalizza molto su quello che è il volontariato dopodiché all'interno della vera trama horror di questo numero però ci sono due temi particolari che sono l'evoluzione l'evoluzione della razza umana, in questo caso l'evoluzione della razza umana in quella demoniaca e il rapporto tra la scienza e la fede parliamo del primo argomento, il volontariato che è il tema che più mi è caro all'interno di questo numero perché è un argomento comunque che anche io in prima persona ho vissuto al momento no, ma in passato ho avuto diverse esperienze col volontariato tutte esperienze che mi hanno felicemente arricchito, devo dire però ho notato anch'io, perché comunque ho gli occhi ho notato anch'io le perplessità, i dubbi che attanagliano Samuel Stern sul volontariato ovvero, e cito è che mi sento a disagio quando si parla di volontariato il mio lato sociopatico che esce fuori, suppongo non parlo di Penny, ma alcuni di questi campioni dell'altruismo mi danno il mal di pancia sembrano quasi giudicarti su quanto ti sacrifichi per gli altri questo è Samuel Stern, ed Duncan dice e non è una buona cosa secondo te? no, se è l'unica motivazione e se per di più la imponi agli altri ho l'impressione che per alcuni sia solo un modo per non sentire il vuoto che hanno dentro allora, non è un segreto che il volontariato fa molto più bene alla persona che lo fa che non alla persona che lo riceve per il semplice fatto che la persona che lo riceve lo riceve da un volontario come potrebbe riceverla da un altro volontario che ne prenderebbe il posto quindi la presenza del volontario fa bene al volontario stesso con questo non voglio dire che le persone che fanno volontariato lo fanno per un motivo egoistico o quantomeno non ne hanno coscienza ma è indubbio che il volontariato faccia bene alla nostra anima, al nostro essere fare del bene solo per sentirsi migliori degli altri è qualcosa di sbagliato? se lo si fa solo per quello, ovviamente sì e la maggior parte delle persone che lo fa nemmeno se ne accorge, nemmeno ne è conscia ma ci sono un sacco di persone nell'ambito del volontariato e ve ne accorgete dopo cinque minuti con cui parlate con loro che sfruttano il discorso del fare del bene, dell'aiutare il prossimo per trovare il loro posto nel mondo probabilmente perché sono insoddisfatti da qualche altro loro ambito nella vita e quindi si danno un tono in questo ambito del volontariato questo va però contro tutto quello che potrebbe essere un qualsivoglia donarsi agli altri essere volontario e esserlo magari da diversi anni non significa essere il re di nessuna realtà anzi il vero volontario è quello che nonostante lo faccia da tanti anni si mette al servizio dei primi arrivati, degli ultimi arrivati scusate per insegnare loro a far bene altrettanto il volontariato non pretendo ora che tutti i volontari si facciano un esame di coscienza per dire ah ma quello che ho fatto l'ho sempre fatto nel modo giusto l'ho fatto in maniera egoistica fare comunque il volontariato è comunque qualcosa di buono specialmente in un paese come l'Italia che si appoggia molto sul volontariato a questo appunto Duncan risponde magari è così, magari davvero lo fanno per riempire un vuoto che hanno dentro preferisci loro o preferisci forse quelli che questo vuoto lo riempiono con l'alcol, con la droga e intendo la gente che si sfonda a tal punto da perdere se stessa è ovvio che se devi trovare una droga è meglio trovare una droga positiva faccio un esempio di droga positiva e droga negativa droga negativa la droga, la droga che ti fa bucare, che ti fa perdere la tua identità i tuoi progetti, la tua stessa persona che può essere appunto le droghe pesanti l'alcolismo, non conosco assolutamente le droghe leggere quindi non so se anche quelle ad alti dosaggi portino alla perdizione così via ma tutto ciò che appunto ti distoglie da te stesso una droga positiva potrebbe essere appunto il tenersi in forma perché comunque tenersi in forma rilascia endorfine le stesse endorfine che rilasciano anche le droghe quando si dice quello è un drogato di palestra ci sono anche quelli che magari appunto esagerano nel tenersi in forma ma tenersi in forma è comunque una buona droga tra virgolette così come una buona droga potrebbe essere appunto il volontariato quindi benvenga drogarsi di volontariato con questo cosa voglio dire? che alla fine di questa quarantena se per caso avete del tempo libero se per caso magari siete soli nella vostra cameretta e volete trovare dei nuovi amici non cercateli per forza virtualmente non perché ci sia qualcosa di male ma perché magari li trovate lontanissimi quando invece potete trovare degli amici a pochi chilometri facendo del volontariato lo so, lo so che noi nerd facciamo fatica a integrarci con le persone che non sono nerd come noi ma date una chance date una chance a voi stessi date una chance agli altri colleghi che potreste trovare in qualunque ambito di volontariato e a quello che andrete a fare che vi arricchirà sicuramente e ora passiamo invece agli argomenti più oscuri ovvero l'evoluzione dei demoni come nuova specie dominante sulla Terra secondo il pensiero di questo scienziato pazzo dottore pazzo anzi che ha approcciato la fede con la scienza in un modo che non si era mai visto prima ovvero non negando quello che sostiene la fede dell'esorcismo fondamentalmente della demonologia quindi supponendo che la possessione demoniaca non sia reale ma sia una qualsivoglia malattia come per esempio solitamente era l'epilessia che era collegata alle possessioni demoniache nel passato questo dottore nonostante non creda assolutamente nell'ultraterreno, in Dio, nel paranormale in quello che volete ha approntato un approccio scientifico alla possessione demoniaca cercando in maniera chirurgica di capire come funziona come svilupparla come farla persino espandere nell'essere umano in modo che ci si evolva perché è fermamente convinto che il demone che qui giustamente ha chiamato cancro psichico come ho detto pure io nell'altro video il demone che nell'universo di Samo Esterna viene generato dalla coscienza umana è un vero e proprio cancro psichico ma a quanto pare per questo dottore non è solo un cancro psichico ma è quello che dovrebbe prendere il posto della coscienza umana la coscienza demoniaca dovrebbe sovrastare totalmente la coscienza umana in modo che la razza umana raggiunga questo nuovo stadio evolutivo come appunto se diventassimo degli X-Men demoniaci fondamentalmente ovviamente questo è uno scienziato pazzo che ha visto solo la sua esperienza personale di possessione demoniaca poi scopriremo cosa lo ha spinto a fare tutto questo e ci ha approntato il suo metodo scientifico senza sapere molte cose come per esempio nell'universo di Samo Esterna lo si dice spesso che un demone non può sopravvivere senza il suo umano quindi se l'essere umano viene torturato viene menomato anche il demone ne soffre questa cosa questo scienziato non lo sapeva quindi ha torturato involontariamente anche tutti i demoni che stava coltivando e dico davvero coltivando anche alla fine di questo albo si accenna il fatto come si è accennato nel numero scorso che lo sviluppo all'interno della persona umana del demone può avvenire anche per contagio per aggregazione e per contagio ovviamente si parla sempre di cancro psichico quindi ci può stare a livello psicologico che in un ambiente fortemente negativo una persona che ha un demone interiore lo possa infettare anche agli altri tra l'altro manco a farlo apposta in questo periodo è uscito questo volume su un'epidemia demoniaca molto interessante come spunto per l'appunto come ho già detto nel video scorso è probabile che si andrà su questa strada per un eventuale boss finale per un eventuale big bad alla fine di questa prima stagione di Samuel Stern se vogliamo dargli un termine televisivo che potrebbe essere una vera e propria apocalisse sulla terra generata da questa epidemia demoniaca potrebbe andare in questa direzione il fumetto e sarebbe davvero molto interessante vedere Samuel Stern e i suoi comprimari che sono sempre più presenti formare questa resistenza a questa apocalisse bene con questo è tutto voi fatemi sapere cosa ne pensate del numero io vi ringrazio per avervi seguito fino a qui anche nelle mie lucubrazioni mentali sul volontariato fatemi sapere come ve la passate nella reale apocalisse che stiamo vivendo in questo momento spero che stiate tutti bene spero di avervi aglietato per questi minuti parlando un po' di un argomento che ci piace perché se siete qui vuol dire che Samuel Stern vi piace io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video grazie a tutti